Ciao amici di youtube, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo su Genshin dopo un bel pop perché le ultime pull serie le abbiamo fatte per Arlecchino, quindi è già passato un mesetto, anzi 40 giorni abbondanti. Abbiamo pullato per Chlorind, non in tantissime, in più di quanti pensavo, ora sta a me e niente, in questo video ci saranno probabilmente le mie pull e anche quelle degli altri. Oggi 50 e 50 sono intorno a PT47 perché ho tirato accidentalmente una singola l'altro giorno in live e ho rischiato di fare un casino. Vorrei prendere soltanto lei, quindi se lo vinco magari faccio qualche multi nel bannerarmi proprio per così, se lo perdo mi prendo lei e mi fermo perché fra 20 giorni, anzi 16 c'è Stagiwine e devo prendere anche lei. Ok, quindi vi auguro buona visione, auguratemi buona fortuna e fatemi uscire una Chirara da qualche parte. 37 andiamo, 48. 4 stelle. Setos. Bennett, va bene, va bene, va bene, sono pull, a me vanno benissimo. 49. E poi facciamo la 50 e poi si va di multi ovviamente perché se si andasse a singole fino a 76 io penso sverrei. E 50, perfetto. Ok, siamo tranquilli. Sono molto tranquilla, sono molto zen perché oggi non sono tipo quando eravamo per Arlecchino devo fare personaggio, voglio l'arma. Qua voglio solo lei, quindi se mi esce ora o nel prossimo PT siamo comunque in pace. Allora siamo a 50, andiamo a 60. Poi è stata cattivissima in questo banner. Possiamo dire oggettivamente che è stata molto cattiva, quindi a me basta portarmela a casa. Allora. Vediamo. Se abbiamo un 4 stelle nuovo oppure no. Bella, Favonius, Gridsworth, tanta roba. Ok, ho molte le armi e molti fortunata. Dai, 5 stelle nella prossima molti. 70, così anche Erly. 70. E, e. Vediamo. Chi c'è qua? Toma, giustamente, giustamente. Non poteva mancare anche Toma. No, io ragazzi valuto molto sul lag. Se non lagga io do per scontato che ci sia Europa e ho già. Per questo quando saremo alla multi e 5 stelle saprò subito se troviamo oppure no. Purtroppo. Purtroppo. Allora, siamo a 70, faccio le famose quattro singole e poi la multi del 5 stelle. 71. Liscia. Con Arlen non laggò, però avete visto a Nico come ha laggato bene prima? 72. 73. Ok. Ultima. Ultima, ultima, ultima. 74. Dai, non uscire qui. Ok. 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 Allora, ragazzi, ve l'ho detto. Se è Clorind, GG. Se è Gin o Tignari, GG. Se è uno degli altri, va bene lo stesso. Tanto ce la prendiamo, abbiamo tante pool oggi e poi si tiene anche abbastanza per la Seji. E vi ricordo che ovviamente non ho trovato ancora Setos, quindi se lagga potrebbe essere anche Setos, quindi in realtà... Vabbè, dai, la multi del 5 stelle... Clorinde, io non so che dirti. Vedete che fare? Mi sembra che sei stata molto attiva, quindi non mi aspetto grandi cose. Magari mi stupisci. Vediamo. Allora, andiamo a multi del 5 stelle. Non ha laggato. Proprio liscissimo, liscissimo, nemmeno qui sbaglio. Ok. Ok. Oggi ha laggato agli altri e non a me. Ok. A posto. Ok. Grazie, grazie. Imparate voi di Star Rail. Grazie. Carezzina allo schermo. Vabbè, è stato veloce. In compenso noi abbiamo trovato Setos. Però tanto adesso tira una multi sui banner di Hall, quindi mai dire mai. Qui invece si va di pettorali. Allora, siamo a PT9 singola. Singola. Proprio con la Goliardica PT10. Perché PT9 non si può vedere. Ricordo che manca Setos. Ancora. Tra l'altro. Perfetto. 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 Grazie. Grazie. Perfetto. Bene. Almeno, almeno non sei un Kirara 2. Che già c'è una. Ma a posto. A posto. Bene. Grazie. Quanto chiacchieri però, eh, amico mio. Una grande chiacchierata. Vabbè, mancava Setos. Mancava. Ragione Kala. Mancava. Perfetto. Possiamo continuare. Allora, PT10 andiamo a PT20. Tre multi, eh. Non di più. 20. Quattro stelle. Ah, ora se uscisse anche Kirara si potrebbe far festa. Ma non pretendo niente. No, Kala è un'altra. Kala, non parlo solo con te. C'è un'altra ragazza che si chiama Kala. Parlo con lei. Quando dico Kala non parlo con te. Parlo con lei. Ma pull, va benissimo, va benissimo. Troppe Kala, esatto. Ecco, i Kala in chat. Ok. Andiamo a 30. Eeeh, sì. Aiuto. Vabbè. Vabbè, qui o nel caso mio marito mi ama, e nel caso eri cambiato, o qualsiasi cesso. Si è uscito garantita la coniglia. Intanto potete rendere sì alla scommessa. Raga, il velo non ce l'ho. Non ce l'ho perché non pullavo per me per la età moggi. Non ce l'ho il velo. Non ce l'ho a portata di mano, raga. Non ce l'ho. Quindi non sarà mai lui. Perché sarà offeso. Scusate, mi sono un attimo persa. 21. Andiamo, quindi 21. 22. 23. 24. 25. Finitela. 26. 27. 28. 29. L'ultima. Alla trentesima. 30. Sì. Sì, Tigrari. Sì. Grazie. 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 Sì. Garantito per la coniglia. E Tigrari c'è due. Grazie. Stelle. Siamo tranquilli perché è garantito. Eccolo qua. Eccolo qua. Ne sono garantite due da quello che so. Allora, 65, 76, 77, 78. Io non l'avevo nemmeno visto. Cioè, la splash art si vede nel banner, però non è la stessa cosa. Bella. Gigantesca. Eccola qua. E l'ac6 di Bennett. Ok. Vediamo. Ave Maria. Siamo messi a questi livelli. Dai, piena di grazia. Io proprio l'anticristo. No, quella è Eliana. Io e lei sì. Dai che è lei. Dai che è lei. De paura. Eh, vabbè. Vabbè. Meglio questa che un altro schifo. Ah, le tirerei tu. Ok. 46. 46. Prima. Oddio, oddio. Sì, c'è quella. Dai, dai. Dai, dai. Ok, 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 ok. Vediamo. Ma che cazzo c'entrano sti cosi? Dai. Sono almeno in forma A. Non questa. R2. R2. Come Riccardo, te l'ho detto. La presenza. Come Riccardo. Questa è la presenza di Riccardo. Quindi io qua, se vuoi, si può anche andare. È uscita in fondo alla multa. Che petti siamo, Davide? Di uno. Di tre. Ok, eccola. Vabbè. Ottimo. Ok. Non ho anche il tempo. Eccola, pt2. Pt2. Quindi, Ivi, sarebbe stato doppio. Sarebbe stato doppio se eravamo un po' spostati di multi. Oddio. Perché pt2. Pt3, tipo. Due, due. Due. Era la seconda. Era la seconda. Cioè, dopo che hai trovato la tua 5 stelle c'è stata una singola e poi c'è stata questa. Io avevo pianificato tutte le pull se fosse andato male. Niente, è doppio 5 stelle. Ora ce l'ho fatto. E per Chlorine... Ma? Azzurro. Un cavino azzurro, ok. No, ma l'hai detto. Guarda! Guarda! Sì, 4. Buona. Però, baffinculo. Io te l'ho detto, non la sentivo. Te l'ho detto, non la sentivo. Accidenti a me, mi sensi da strega. Doppia! Doppia! Doppia, Chlorine! Doppia! Dai, doppia. No, vogliamo doppia! 85 e 76, quindi... Lasci 5. 78, 79, 80. Sì, dai. 81. La chiamata di... Oddio, prima aveva detto 81. Come fa? Come ha fatto a dire proprio 81? Vinto. Dai. Dai. Dai, Chlorine. Dai, Chlorine, subito all'inizio! Sì! Subito all'inizio! C2! In onore di Sabrina! Sabrino! Molti in onore di Sabrino! Per Sabrino, ragazzi! Per Sabrino! L'ho chiamato Chlorine, Sabrino. Sì, sì, ha sparato. È un veterinario incompetente, Chlorine. 77, 78, 79... Oh, eccola! Che paura! Due, tre, quattro... Sabrino! Maledetti veterinario incompetente! Guarda come c'è le 5 stelle appena se ne va! Sì, è incredibile! Non sono qui! Non sono andata via! Sono qui! Non è possibile, secondo me. 78, 79... Oh, eccola! Doppia! Uno, due... Solo doppia. Tre, quattro, cinque, sei... Vorrei perderlo. Sette, otto, tre... Sì, mancano due. Mancano due. Banniamo Billy e... O comunque alla prossima singola Davide rendi la scommessa perché era su quelle... Perché se... No, c'è cinque scritto. Cinquantacinque pull. Ecco. No! Assurdo! Mammina! Che scopera! Piti! Andiamo? Andiamo a 84. Sì, molti del 5 stelle. Allora, Chlorine garantita, ma non è quello. Allora, 75, quindi puoi rendere la scommessa. 76. Eccola qua. 77, buone speranze anche di trovare appunto altro. Se vuoi fargli la fosina, di riso, lo faccio sempre anch'io. Regalo a Melody che se lo merita, ha fermato tanto. Ok, ce l'abbiamo. Vediamo. 65. 66. Basta, su Stringless. 67. 68. 69. Oddio, dov'è? Sì. 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 Melody, ce l'abbiamo. Tremaviti. Dai. Meno male. Come stai, Melody? Tutto bene? È morta, rara. L'ho sentita esultare. Ed è morta. Oddio, che bello. Sono contenta. Sono contenta. Sì. 60. 60. 60, fede. Ecco, è lì. Prima. Prima. È lei o non è lei? Io spero sia lei. È lei. Ok, 62. 63. Che cosa ha? Ok, 64. 75. Non è che angoscia. Oh mia, proprio l'ultima. 67. 68. No. Basta. Questa è colpa di Iki. Questa è Iki. Questa è Iki. No. Questa è Iki. Che si ammazza nel frattempo. Ho preso il 50 e 50 anche con... Cioè, con lei e con Kasua. Con Kasua, me lo ricordavo. Sì, sì. Questa è colpa di Iki, comunque. Però magari c'è, eh. C'è altre due singole. Magari il P1. O 2. O 2. 2. Ma quanto l'hai fatto? 79. Eccola. 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 Vai. Sì. Butta i baci allo schermo. Saluta. Mamma mia. Aspetta, devo fare la foto. Vai, vai. Foto, vai. Screen, foto, fai tutto. Ci mutiamo un attimo, Federica. Vi lasciamo un momento di intimità perché ci sentiamo di troppo, vero, Fede? In questo momento. No, no, dai. Ti stacco le mani. Oh, scherzo. Oddio. Oddio. Aiuto. Oddio. Aiuto. Oddio. Aiuto. Cos'è? 11. 11. 12. Sì, 12. 12. Io sono, non ero pronta, lo stavo ancora prontolando. 13. 18. 12. 12. Quella di Al. Ancora di Al. 17. Che è buonissima. E poi comunque la spada, male che vada gli diamo quella. Quindi. Sì. E poi la vedremo salutarata. Sì, dai. Eccola. Eccola. Ancora molti prima. Dov'è? Vediamola. Vediamola. Un patire. Un patire. Una Candace. Candace. Così da nulla. Va bene. Nuova o ce l'avevi? No, ce l'avevo già. Ok. Quando ho pulato per sai, no. Ok. Ah già, giusto, è vero. Giusto. Era l'insieme. A fine multi, comunque. C'è manco la soddisfazione che esce con tutti. Ormai. Oh, dai. Sentevi al dolore. Multi del 5 stelle. C'è. A meno non si va dopo l'80. Vediamo. Vediamo. Io lo sapete. Io di solito lo faccio nell'altra maniera. Però mi sono fidata. Quindi, allora, 71. 72. 73. 74. Ok. Siamo quasi al soft. 75. 76. 77. Dio, dio. 78. Ragazzi, va messo. È il momento. Questo momento. Cici. No, non era 90 però il beat per fortuna. Per fortuna. 42. Eccoci. Eccoci. All'aggato. È qui. Sì, prima. Ragazzi, sto cavolo di lagga purtroppo ci frega. Però almeno sappiamo. Oh, prima del piti è uscita. Quindi questo era 33, 34, 35, 36, 37. Dai, meno male. 38. Oh, a fine, eh. 39. L'ultima. Alla 42. A parte, no, 42. 40. A 40 che è tondo? La C6. No, raga. Anche la C6 di Sethos insieme. C6 Sethos e 41 Clorid. Incredibile. L'abbiamo finito insieme. 5 stelle. Portiamocela a casa. Piti, 74. Andiamo a 84. Eccoci qua. Bagliore dorato. È il momento. Il momento della verità. Allora, questa era 75, 76, 77, dove è quella splash art bellissima? 78, 79, un po' scesso anche lui, 80, 81, eccolo. Ma io so. Aiuto. Aiuto. Andiamo a 33, quindi l'ultima è finisce su. Gorex. Dobbiamo chiedere a Gorex se lui è una persona che frequenta assiduamente la messa. Dobbiamo chiederlo. Dall'altro, ragazzi, in tutto ciò, Gorex non mi sta scrivendo nulla. Perché lui, il ragazzo a cui sto pullando in questo momento, è a votare. 30. siiii! oh mio dio! siiii! siiii! ragazzi il gorex che sta votando nel frattempo 5 stelle ci sei in una multi certo subito a 75 è uscita quindi è uscita prima del soft un po' Grazie a tutti.